Per me questo percorso è stato arricchente proprio di per sé. Ogni frase è stata illuminante, nel senso sono state tutte notizie o nozioni a cui io non avevo mai pensato, non avevo fatto certi collegamenti, non sapevo proprio niente, quindi ciascuna di queste è stata già un arricchimento. E' chiaro che unito al discorso emotivo va un po' a rimettere tutti i fili nelle prese giuste nel momento della serata. Lì era sempre tutto più chiaro, più preciso, più facile, volta per volta sempre di più. Io mi sono vista dentro, dentro scusate, infatti ho piano piano avuto delle illuminazioni delle cose e ho stravolto la mia vita, ho cambiato studio, ho dato la mia casa in affitto.